Musica Si riunisce il Consiglio regionale e affronta subito il nodo che non aveva sciolto 15 giorni prima, la normativa sui direttori regionali. La legge adesso viene varata a maggioranza. La vera sfida adesso resta quella dei vaccini all'interno della Commissione Sanità. L'assessore conferma che tutte le prenotazioni fino a ferragosto sono confermate. Resta il problema delle forniture che sono in numero molto ridotto. In ogni caso adesso riapre il portale per le prenotazioni. Dopo la formalizzazione della nascita della Commissione d'inchiesta sulla campagna dei vaccini nella nostra regione voluta dalle opposizioni, il Consiglio naturalmente scioglie l'altra Commissione, quella speciale, che di fatto non era mai partita e che era stata decisa il 7 aprile scorso. Intanto il Consiglio si impegna a favorire ancora di più la partecipazione in vista degli stati generali della salute. Lo fa decidendo di prolungare la possibilità di intervenire fino alla fine di agosto. Via libera al bilancio del Parco di San Rossore, l'ultimo prima del Covid, è quello del 2019. Proprio nelle ore in cui si insediano il Presidente e il nuovo Consiglio direttivo, assemblea quasi divisa a metà sul bilancio. 14 sì, 12 no, sì anche al bilancio dell'IRPET. Intanto, prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, diciamo che con il fondo di 75 mila euro dei rimborsi non pagati ai consiglieri durante il lockdown, sarà finanziato un bando aperto alle associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata e rivolto ai giovani. Intanto prosegue le audizioni la Commissione sulle infiltrazioni mafiose, istituita dopo l'inchiesta per la lavorazione degli scarti conciari. Alla data dell'8 luglio i vaccini inoculati in Toscana sono 2 milioni e 280 mila, metà dei quali utilizzati per i richiami. I numeri in dettaglio li illustra in Commissione Sanità l'assessore Bezzini, che poi annuncia che da metà agosto si vaccineranno anche gli studenti più giovani. Preoccupa l'incidenza della variante Delta, che ormai è al 7% del totale nella nostra regione. Anche il numero dei contagi, pur restando per ora basso, sembra destinato a crescere. Praticamente conclusa la campagna per i più anziani e i fragili, restano alcuni problemi per chi ha tra 60 e 69 anni, ma in Toscana va meglio di 3 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Una spinta ulteriore porrà esserci adesso, con la riapertura del portale per le prenotazioni anche alle fasce meno anziane, una corsa contro il tempo che però dipende anche dall'esito delle forniture. Per i ritardi dell'inizio, una vera e propria falsa partenza, dicono tutti i consiglieri di opposizione, c'era prima la commissione speciale, che anche una parte delle opposizioni, tutte tranne i Fratelli d'Italia, avevano votato il 7 aprile, subito dopo Pasqua, ma di fatto non ha mai funzionato. E ora nasce una nuova commissione d'inchiesta. Oggi il Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa, perché fino ad oggi, soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia, nacque questa commissione, non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta su la pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia. Perché, ahimè, la gestione della campagna vaccinale della regione toscana è stata alla ribalta del palinzesto nazionale delle TV e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti, perché riteniamo che su tutto questo si debba fare luce. Le porte di quella che avrebbe dovuto essere la commissione speciale sui vaccini si sono chiuse per l'ultima volta il 26 maggio, come vediamo nelle nostre immagini, dopo due infruttuosi tentativi di eleggere l'ufficio di presidenza. Ma è accaduta una cosa un po' strana. L'opposizione con otto firme può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte, soltanto per ritardi legati all'opposizione. La prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stato l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio. Io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente. Sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni di tardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato un ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza, tra Italia Viva e il PD, che sono note, e quindi si è arenata praticamente subito. È un argomento questo che coalizza tutte le opposizioni. Il centrodestra e il Movimento 5 Stelle si sono trovati dalla stessa parte. Quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, già nell'elezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo, come il Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione di inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinali sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando. E soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica. L'altra gamba della maggioranza che in più di un'occasione ha criticato gli esordi della campagna vaccinale. Oggi come commenta l'evoluzione politica e istituzionale di questa vicenda? Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto. Un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le gradatorie a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per primi i ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato e della medicina di base. Nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene. E quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio, quindi i risultati sono ottenuti. Il sesto gruppo è quello di Forza Italia, il suo consigliere Marco Stella si era espresso così nella seduta convocata apposta per discutere dei ritardi e dei problemi della prima fase, era il 7 aprile. Con l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta, di fatto la sanità toscana è stata commissariata. Si è detto, in Toscana, le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. È il più grande atto di sfiducia che un assessore della sanità abbia avuto in quattro mesi da quando è in carica. Diciamo anche però che se quell'assessore lì e se quel presidente della sanità pensano non soltanto alla loro poltrona, ma all'interesse collettivo dovrebbero trarre le conseguenze. A proposito di sanità, il Consiglio regionale insiste sulla volontà di far partecipare al percorso degli stati generali. Si svolgeranno in autunno. Fino al 31 agosto si porrà accedere al portale dedicato e dire la propria opinione. Sono proseguite anche le audizioni dei soggetti interessati e coinvolti. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici. Abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare l'attenzione su alcune questioni. Sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione. Sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. Faremo il 15 un focus sull'emergenza urgenza perché anche questo è uno dei temi caldi. Vediamo che mancano professionisti. Ci sono modelli disomogenei di organizzazione in Toscana che vorremmo riportare a omogenità e questo sarà un altro elemento. Il 29 faremo un focus sulla digitalizzazione sia nel senso di come si possono rendere interoperabili e meglio funzionanti i sistemi informativi del sistema sanitario regionale sia su come il digitale cambierà l'organizzazione sanitaria nei prossimi anni. Gli stati generali della sanità sono un momento per noi molto importante, un momento di ascolto, di partecipazione, di confronto. Consentitemi di ringraziare il presidente Enrico Sostegni per l'enorme lavoro che sta svolgendo insieme ai membri della Commissione ormai da qualche settimana. Audite più di 50 persone in Commissione, più di 100 contributi ricevuti sul portale. Credo che questa sia buona politica. La buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro. Una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. Il primo pensiero all'inizio dei lavori è per Francesco Bosi, a lungo parlamentare, anche sottosegretario, consigliere regionale, sindaco di un comune dell'Elba. Fu tra i fondatori dell'Udc e è stato protagonista di tantissime interviste anche in questa nostra trasmissione. Si era mossa anche la Corte dei Conti per rilevare alcune incongruenze nella disciplina sui direttori della regione. I nodi erano quelli della pianta organica e del cosiddetto spoil system. Adesso la normativa è stata ulteriormente modificata e al momento del voto ottiene 24 sì a fronte di un no e due astensioni. Partiamo dai commenti della maggioranza. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima Commissione e poi anche in Aula. E questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti, che possono guidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica, come corretto che sia, perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività, un periodo di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono elementi positivi. Noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in Aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli, che sono poi il cuore principale della modifica legislativa, venisse poi approvati. Questa legge ha animato il confronto politico e secondo alcuni osservatori ha creato anche tensioni nei rapporti tra Giunta e maggioranza che la sostiene. Ascoltiamo ora due voci dell'opposizione. Noi non abbiamo partecipato al voto, non abbiamo partecipato al voto in quanto, come dire, siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in Aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti e ha diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in commissione attraverso una serie di tappe, diciamo di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in Aula. Quindi come dire, una partita interna, vedremo se poi il ruolo delle commissioni che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Bugliani sarà e sarà mantenuto, diciamo, al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature. Abbiamo visto il Presidente Bugliani e il Presidente Gianni litigare, becchettarsi in consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e contro emendamenti. era semplicemente una legge di adeguamento, una richiesta della Corte dei Conti da fare in cinque minuti. Il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare due mesi. Alla fine sono arrivati in fondo in maniera, tutto sommato, anche un po', a mio modo di vedere, un po' raffazzonata, passatemi il termine, non a caso alcuni emendamenti presentati dallo stesso Partito Democratico sono stati ritenuti non corretti tecnicamente dai tecnici della Regione. Alla fine la legge è comunque arrivata in aula. Noi ci siamo astenuti proprio in virtù del fatto che fosse una legge da una parte dovuta, ma dall'altra che ha subito un iter, diciamo, poco chiaro. Queste sono le immagini dell'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio Direttivo del Parco di San Rossore. Erano presenti il Presidente della Giunta Regionale, Eugenio Gianni, quello del Consiglio, Antonio Mazzeo, e molti sindaci del territorio. Poche ore prima il Consiglio regionale stesso aveva approvato il bilancio di esercizio 2019, l'ultimo prima della pandemia, che aveva rivelato, dice la Presidente della Commissione Ambiente, alcune difficoltà. Grazie alla gestione straordinaria comunque c'è stato un utile di circa 27.000 euro. Il dibattito è stato acceso, il voto incerto, 14 sì, 12 no. Ne riparleremo tra una settimana. Anche il bilancio dell'IRPET è stato approvato, è quello del 2020 in questo caso, e fa registrare un utile significativo di 445.000 euro. Infine, parliamo di una novità nel Codice del Commercio che riguarda i cosiddetti hobbysti, termine che ora viene superato da quello di operatori non professionisti. Per loro, adesso sale a 10, il numero di mercatini autorizzati e si interviene sui rinnovi delle concessioni su aree pubbliche e sulla decadenza del titolo abilitativo. Sono tutti d'accordo i consiglieri di maggioranza e opposizione sul documento che chiede di eliminare il sovraffollamento delle classi e di attivare il cosiddetto organico Covid, insomma aumentare la dotazione del personale. Questo in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Sì, la Quinta Commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che impegni la Giunta a chiedere al Governo due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola, cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi. Perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 e chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti. L'obiettivo della didattica tutta in presenza è condiviso, ma certo gli ostacoli non mancano e anche inevitabilmente le aspettative. Sicuramente sono delle misure che sono utili, ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule. E credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza Covid e del necessario distanziamento, ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la Regione Toscana da questo punto di vista non è sicuramente ben messa perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatti negli anni scorsi. E' un altro segno di questi tempi diversi con tante incognite ma anche con qualche certezza in più. Torna infatti Mercanzia a Certardo si svolgerà in sei aree spettacolo ogni sera dal 15 al 18 luglio dopo lo stop dello scorso anno. In questo caso si rende omaggio anche a Dante e al Grande Cinema. L'idea della possibilità di ripartire di farlo in sicurezza di tornare nelle nostre strade di tornare nelle nostre piazze spettacoli di strada la possibilità di tenere insieme la cultura, l'arte ecco questa è esattamente l'idea di Toscana che abbiamo per questa estate uno state che noi vogliamo assolutamente rivivere nelle nostre strade e nelle nostre piazze ci mancava tanto la possibilità di incrociare i nostri sguardi la possibilità di ritrovarci tutti insieme sono momenti di socialità importanti la 33esima edizione è un po' un messaggio di ripartenza anche per Certardo un messaggio di ripartenza forte un messaggio di ripartenza importante che dà il segno finalmente di una speranza la speranza di poter tornare alle nostre vite vite fatte di socialità vite fatte di incontri vite fatte di arte di cultura di tradizioni noi puntuali ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21.15 sempre dopo il Tg della Sera di Telegram Ducato grazie a tutti Grazie a tutti.